Dove andiamo ragazzi? Eh a Bobine, Bobine, qua si può andare dai, non può essere c'è la gente di prima Vai vai vai, sono snappy quindi ci saranno di nuovo, giocami insieme ragazzi Ma chi è questo maniaco che mi ha rubato l'arma così veloce? Sono qua Pizz con te Minchia Uno sotto che rientra Non mi fai controllare Andy perchè ti sento la madre Vai che muore Perfetto Guarda il camper Pizz, guarda il camper No no, molto più indietro, 26 26 craccato 26 bianco Non lo vedo più Eh, sono dietro il camper C'è gente che c'è? C'entano Morto C'è chi? C'è chi? Chi non lo dà, man cake, split, via 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 62 T'ho bisogno Morto Li avevo spurato addosso C'è chi li ha fatto benissimo, bravo Ma che gioco sto giocando Calmo, calmo, calmo Pizz, flanco va da lì 35 vedi te Morto Morto Attimo Che dice? Oh ragazzi 8Kg, God ci siamo Ma io ho chiamato Franco No, ti ho detto flancalo da lì ti ho detto Ah, ho capito Franco, credevo Mi credevo avesse dei ricordi di guerra No, no Ma prima di andare avanti con il video ragazzi Voglio presentarvi il nuovo calendario dell'avvento di Level Up Come l'anno scorso, anche quest'anno, un sacco di gusti anche in anteprima Da provare con il nuovissimo calendario Guardate che meraviglia Sono sul sito di Level Up Trovate il link ovviamente in descrizione E c'è una promo incredibile Incredibile Il 40% di sconto sul codice Xiuderone Voi lo potete andare a mettere per un ordine superiore ai 79,99€ E avrete uno sconto del 40%, raga, quasi la metà Devastante Vi faccio vedere Siamo sul sito di Level Up Potete fare aggiunge al carrello Potete poi andare avanti con i vostri acquisti O semplicemente fare visualizza il carrello E nel momento in cui inserisci il tuo codice Scrivete Xiuderone Facendo applica Come vedete Avete un risparmio in questo caso Di 36€ Quindi ragazzi Una roba davvero incredibile Poi cliccando con procedi all'acquisto Ovviamente potrete acquistare Il vostro calendario dell'avvento Ovviamente questa promozione vale per qualsiasi cosa Ragazzi Potete andare nello shop Nella sezione Gaming Booster E come vedete ci sono un sacco di gusti Io vi invito anche a provare La Halloween Edition 2022 Quella che abbiamo provato l'ultima volta in live insieme Veramente buonissima Ce ne sono tante Tantissime Ancora i gusti estivi È tornato Anche la Retro Edition Che a me piace un casino E insomma Ce ne sono davvero tante Che potete scegliere ragazzi Non perdete l'occasione 40% di sconto Con il codice Xiuderone Level Up Fatto dai gamer Per i gamer Trezza partite Un punto vecchio Due per seri Oh gente Morto 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 E comunque un minimo di pushing Dobbiamo avere 25k Vai Gente ancora Gente dietro 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 ovest Sul tabellone ragazzi Sul tabellone E' buona questa però E' buona questa 25 Ti ho fatto malissimo Ho preso il cartellone Dove sono? Sono qui sotto Sono qua sotto 50 Sono dentro tutto Uno qui 33 Vai tiralo fuori Tiralo fuori Parto Oh C'è gente sopra Riusciamo andare a prendere quelli sopra Gli puoi uno impulsare? Ovvio Ragazzi mi sparano a me Vi prego Vai 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 Bravi raga Che bello Minchia che su del top fragger della squadra Andiamo Sì Ne abbiamo solo 13 Dovemo farne ancora 12 Dei signori qua Andiamo 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 Attento Pizze che sei solo 2 scooter Eh ovvio che non è una palla Sparano Muoio Muoio sicuro Non sono morto con un pelo Ma muoio Aiuto Uno di vita più No no aiuto che sia un bel c***o di niente Ci pushano ancora 39 Morto Uno qua sopra anche Pizze lì davanti Tu eh Pensa io 40 Morto lui Morto lui Morto lui 29 bianco il tuo pizza Morto anche il tuo Manca l'ultimo Morto anche la banana Easy Le kill ci sono ragazzi Nice la prima partita è quasi andata Gente qua F Qua sotto C'è un macello qui 32 48 48 32 white morto La K C'è un blotto di gente Non è molto Guarda quell'altro sopra Spara lì Spara lì Spara lì Sono fottuto io Qua sotto 32 doppio triplo Entra lì Bravo Morto Dietro gente che potrebbe entrare Chef Non occorre Non occorre 1 Moro io Ci sta con la mitraglia Pucana galera Infame Bastarda Porco zio E' vero che non si può vittare I sui il toni Non si può vittare Non morite guys Sono tenuta L'ulto scarico Scarico Vai Andy Carica Carica Calma 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 Vai Vai Bravo Andy Guarda se hai riscatto un botto Piano Piano Ma c'è uno snap Mi tira i pesci Splot Ma Come Ma sì C'è uno snap buono Mi tira i pesci Eeeh C'è un problema L'hai fatta L'ho fatto L'ho fatto Ho fatto anche l'altro Ma lo resto 16 Buona sirea Siderone Buonasera Nico Grazie dei 16 Buonasera Grazie Oh questo sta laggando Bravo F Che strage ragazzi 31 kill Ho sentito dire che se facciamo 40 in un game valeva come 3v20p la con 25 giusto? Nice Siamo tornati Siamo tornati Siamo 3 team ragazzi 3 team da 4 Va dietro mi fanno un agguato Muoio Non muoio Si si Mi ha fatto un agguato da qua Io non so voi dove eravate ma gg Tu non è però può morire Lei prende troppo in su Il fatto che lei Lei è troppo in su Il fatto che lei Non vede Eeeh Mi arrivano boom Noo Tu vuole pure pizze e un macello Io lo dico eh E' andata Prendi la scheda di shooter Ma quello è lo prendendo Si si prendila Prendile vai Non riesci in oe La presa La presa L'ha già presa Ma ragazzi Ma si Ma cosa va con me lo sooo Tira le splash Ok bravo Un altro Prenditi il cinghale Trollata per la casa Non è trollata Non è trollata Calmi 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 C'è un reboot qua F Sul pink giallo Non ce la faccio Perché mi ammazza la te Prima che io riesca Attenzione perché Andy c'ha bisogno Bravo Ma che c'è un cazzo Vai Andy Vai Andy L'ha preso L'ha preso L'impulso Dammi l'impulso Puoi andare a reboot Andy Sul serio Puoi andare a reboot Vai reboot Vai reboot Vai reboot Vai dove dove Vai davanti a te vai vai Con sei vai Deve bisogno di tutte però Subito un'altra Non ce la fa Pizzi Non si può Non si può Niente Continua a fare sto Sionata Puglione Vai L'hai trollata Ora sei morto te No è morto Eh no è morto Sono morto Si è morto Però muori uno per due Non è male Ci sa Che fai con lei dentro E mezzo Ascolti piano Piano Oh calmi calmi Ci ha salvato Non ci credo No non ci ha salvato Ci godo ci godo C'è uno qua sneaky da me E perché Efe 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 Io ho fatto trippo 24 dal tuo pizza Efe 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 Ancora no Ah ma questo pensavo fosse un lupo Efe 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 ACTI EU EFE I Efe INGRAS Efe EF Efe 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 Aspetta un attimo, ho un'idea. Devo andare laggiù in fondo a quella casetta. Sì, bravo. Ad arrivarci vivo, posso fartelo. Ok? Ok, bunker. Ok. Ok. Calmo. Bravo, P. Ciao. Oh mio Dio, let's go! Nice! Merda! 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 Grazie.